Usiamo una vecchia espressione che abbiamo un po' perduto, sono anche cittadino del mondo, allora questa bandiera mi può anche accompagnare per molte ragioni, perché la mia identità non è un'identità che oppongo agli altri, la mia è più ricca, la mia è più forte, l'Europa ha queste radici, no, io ho un'identità che mi rende in qualche modo diverso positivamente dagli altri, io posso portare qualcosa della mia identità e la metto in comune con gli altri, allora è bene che si sappia da dove vengo, qual è la mia storia, quali sono i simboli che mi hanno accompagnato, in questo senso mi va bene. Grazie